Si chiamava Jeff Machado, era un attore anche giornalista brasiliano, era giovane, aveva solo 44 anni ed è stato ritrovato vivo di vita. Dentro ad un bavone il suo corpo si trovava sotto due metri di terra, da Rio de Janeiro, questa città marittima che si trova proprio in Brasile. Il 27 gennaio era scomparso, lasciò la sua abitazione e di lui si erano perse le tracce. Era originario della parte meridionale del Brasile, lavorava nel mondo della recitazione e dello spettacolo, lavorò anche in qualità di giornalista e si occupa anche di cronaca rosa, però tra le attività più importanti ci sono contenuti di tipo video. Fu anche protagonista di una serie televisiva che andò in onda proprio in Brasile. La morte di questo uomo, così giovane, è avvolta letteralmente nel mistero, comunque le cause confermano che, diciamo così, c'è stata questa morte, ripeto. Il ragazzo su cui è stato sepolto ha fatto parte del reto della sua abitazione. Adesso gli inquirenti stanno cercando di valutare la possibilità che l'omicidio si sia verificato effettivamente parlando nella sua casa. Va bene? L'ultima telefonata che l'uomo in questione ha compiuto affatto è stata fatta o meglio è arrivata alla madre. Bene, vi ringrazio per l'ascolto e per la visione di questo video di oggi, utenti di Youtube. Il video termina qua, Jeff Machado, che tu possa riposare in pace. Amen. Grazie a tutti.